Buongiorno cari ragazzi, eccoci qua. Spero che stiate bene, io sto bene e non vedo l'ora di ritornare a scuola per lavorare insieme con voi. Ho deciso di realizzare questo breve video per accompagnare la dispensa che trovate su iTunes.io nel corso di letteratura nella sezione Manzoni, la dispensa sul 5 maggio. Che cos'è il 5 maggio? Il 5 maggio è una poesia scritta da Alessandro Manzoni, una poesia molto lunga, ben 108 versi, che prende il nome di Ode. Il titolo prende il nome da una data, il 5 maggio. Che cosa è successo il 5 maggio del 1821? È morto Napoleone Bonaparte. Conoscete tutti quanti Napoleone, è stato un generale che ha modificato, che ha turbato e che ha l'assetto politico di tutta l'Europa all'alba del XIX secolo. Napoleone Bonaparte fu considerato una leggenda, fu considerato un liberatore. Pensate per esempio a Ugo Foscolo, ma anche un traditore, l'anticristo. Napoleone fu dunque un uomo senza dubbio eccezionale. Solamente per darvi idea della statura, della grandezza di quest'uomo, ho preso alcune citazioni che solitamente vengono attribuite a lui. Diceva Napoleone, Signore dai forza al mio nemico e fallo vivere a lungo affinché possa assistere al mio trionfo. Oppure, l'immortalità è il ricordo che si lascia nella memoria degli uomini. Quest'idea spinge a grandi imprese. Meglio sarebbe non avere vissuto che non lasciare tracce della propria esistenza. O ancora, impossibile è una parola che si trova solo nel vocabolario degli stupidi. Un uomo dunque è un imperatore eccezionale. Non è un caso che abbia conquistato quasi tutta l'Europa. Di fronte a Napoleone era impossibile rimanere indifferenti. Storici, filosofi, politici, poeti, tutti parlavano della sua grandezza e in questo modo contribuirono ad alimentare la leggenda che lo circondava. Tutti tranne Alessandro Manzoni. Manzoni, infatti, si è sempre rifiutato di condividere la sua posizione nei confronti dell'imperatore dei francesi. Ma il 5 maggio 1821 questo grande imperatore morì. E Manzoni, che si era sempre astenuto dal formulare giudizi quando Napoleone era in vita, scrisse in tre giorni, dal 17 al 20 luglio 1821, un ode che riproponesse al mondo la vicenda di un uomo che aveva dominato la scena della storia europea per vent'anni. Attenzione però, perché il 5 maggio non è un ode celebrativa dell'imperatore, né un compianto della sua morte. Che cosa vuole fare dunque Manzoni attraverso questa poesia? Vuole riflettere su Napoleone sì, ma non in quanto imperatore, non in quanto uomo politico, ma semplicemente in quanto uomo. Quando morì Napoleone circolò anche una notizia secondo cui Napoleone si sarebbe convertito a Dio in punto di morte. E Manzoni sceglie proprio questo evento come spunto per una riflessione molto più ampia e molto più grande. Manzoni guarda a Napoleone non come un generale, non come all'imperatore che aveva conquistato tutta l'Europa, ma guarda a Napoleone come uomo e si chiede, di fronte a Dio. Qual è stato il momento più importante per quest'uomo? Quando era imperatore di mezza Europa? Quando era al culmine della sua potenza politica ed umana? Oppure nel momento in cui si è aperto alla grazia divina? In questo senso il vero protagonista dell'ode non è Napoleone, ma la divina providenza, ovvero l'azione di Dio, che salva un uomo, certo un uomo grande, un uomo importantissimo, un uomo in cui era presente in maniera singolare l'immagine di Dio, la forza, lo spirito di Dio, ma che nonostante tutto questo ha investito e dedicato tutta la sua vita per ricercare quale gloria? Una gloria effimera, una gloria che lo ha reso grande agli occhi del mondo, ma forse non agli occhi di Dio. Manzoni, analizzando la vicenda storica di Napoleone e sondando i suoi pensieri, i suoi timori, i suoi rimorsi, le sue vicende interiori, confronta la vanità della gloria umana con quella invece che ci è proposta dal Vangelo. Quest'ode può essere divisa in tre parti. Nella prima parte l'umanità, tutto il mondo e anche Manzoni accolgono attoniti, cioè sbalorditi, la notizia della morte di Napoleone. Guardate, inizia così, con questo celebre incipit, ei fu. E che cosa vuol dire ei fu? Egli fu. Punto. Napoleone non c'è più, è morto, proprio lui. E qui introduce un paragone tra il corpo di Napoleone, la sua spoglia, che è ferma, immobile, adagiata sul letto, e l'immobilità di tutta la terra, tutto il mondo che è rimasto fermo, sbalordito, colpito a questa grande e terribile notizia. La terra dunque, muta, silenziosa, immobile, attonita, che cosa fa? Medita in silenzio sull'ultima ora di quell'uomo che aveva dominato il destino del mondo. E si chiede se mai un giorno nascerà un uomo della stessa grandezza di Napoleone. E poi ci dice Manzoni il mio spirito di poeta, io, ho visto, certo, quel Napoleone trionfare sul trono, essere l'imperatore dei francesi e conquistare tutta Europa. L'ho visto io nel momento della sua massima gloria. L'ho visto anche sconfitto quando ha perso dopo la battaglia di Lipsia. L'ho visto riprendersi il potere con la vicenda dei cento giorni. L'ho visto nuovamente sconfitto dopo la battaglia di Waterloo. Ma mai mi sono unito la mia voce alle voci di tutti gli altri poeti storici che hanno parlato di lui. Cioè è quello che dicevamo prima. Non ho mai voluto esprimere la mia opinione in merito a quest'uomo. Il mio spirito dunque non è stato contaminato da quelle lodi servili. Quali sono le lodi servili? Quelli che celebrano e dicono bene, parlano bene di una persona importante solamente perché sperano di trarre beneficio. Ne sono stato in silenzio per paura di parlare, non sono stato un codardo. Ma adesso oso, provo anch'io a parlare di quest'uomo, di Napoleone, ma non come fanno tutti, con un canto che forse sarà immortale. E perché sarà immortale il canto di Manzoni? Proprio perché guarda Napoleone come un uomo, un uomo come tutti gli altri. È un canto diverso dunque. Nella seconda parte Manzoni ripercorre in un quadro molto breve ma allo stesso tempo molto efficace le imprese e le campagne di Napoleone. Napoleone fu un uomo che ha conquistato tutta l'Europa e ce lo dice in questi semplici versi. Dall'Alpi alle piramidi. Quindi dalle Alpi, nord Italia, alle piramidi. A nord dell'Africa. Dal Manzanarre, Spagna, all'Areno, Germania. Da Scilla, che è un promontorio in Sicilia, al Tanai, fiume Don in Russia. Ecco, un uomo che ha conquistato tutta l'Europa. Un uomo deciso che quando aveva un'idea subito dopo passava all'azione. Ebbene, questa gloria di Napoleone che ha conquistato tutta l'Europa. È stata una vera gloria? Dice Manzoni, io non mi esprimo, non lo dico perché non spetta a me. Lo lascio dire agli storici di domani, no? Ai posteri l'ardua sentenza. Loro potranno dare un giudizio più oggettivo in merito all'operato di Napoleone. Noi ci rimettiamo al giudizio di Dio. Manzoni dunque sospende il giudizio e continua. Napoleone è un uomo che durante la sua vita ha provato tutto. E lo immagina nel momento in cui, in come generale, pensava a diventare imperatore dei francesi. E ha provato quell'inquieta gioia di chi concepisce un grande progetto per la propria vita. Ha provato il dover ubbidire agli altri, pensando però che un giorno avrebbe conquistato anche lui il potere. Ha provato la gloria, ha provato anche la necessità di dover fuggire dopo essere stato sconfitto, perché Napoleone è stato sconfitto. Ha provato il fasto della reggia, degli onori, quando è stato imperatore, ma ha provato anche la tristezza dell'esilio. Due volte è stato sconfitto e due volte anche è risalito sul trono. Un uomo dunque sicuramente eccezionale. Egli pronunciò il suo nome, cioè Napoleone è stato un grandissimo uomo, ha imposto la sua volontà sia tra la fine del Settecento che gli inizi dell'Ottocento. Dunque è stata una figura importantissima a cavallo di due secoli, il Settecento e l'Ottocento. Due secoli molto diversi l'uno dall'altro. Il Settecento infatti è il secolo dell'illuminismo, della razionalità. L'Ottocento invece è il secolo del romanticismo. Eppure gli dice, anche lui ad un certo punto è scomparso dalla scena del mondo e ha terminato i suoi giorni nell'ozio forzato dell'esilio della piccolissima isola di Sant'Elena, confinato nell'oceano atlantico, oggetto da parte di alcuni di immensa invidia, ma anche di profonda pietà. Di un odio inestinguibile da parte dei suoi nemici, ma anche di un amore che non venne mai meno da parte di tutti coloro che lo avevano ammirato. E Manzoni descrive la caduta di Napoleone con un'immagine, l'immagine di un naufragio. Immaginate una persona che sta tranquillamente navigando in mare, il mare è in tempesta e cerca in tutti i modi di governare su quelle onde, ma ad un certo punto quell'onda che stava, che riusciva a governare, che riusciva ad omare, si abbatte su di lui e lo travolge. Così è successo a Napoleone. Come l'onda si abbatte sul capo di un naufrago e lo travolge con il suo peso. Proprio quell'onda su cui poco prima lo sguardo dell'infelice si protendeva nel tentativo di scorgere in vano a prodi lontani, così sull'anima di Napoleone scese il cumulo dei ricordi. Napoleone ormai è isolato e lì è da solo nell'isola di Sant'Elena. E che cosa può fare quest'uomo, questo grande generale da solo tutto il giorno, nel corso dei mesi? Probabilmente, dice Manzoni, ha ripensato e ripensato alle sue vicende passate e dunque lo immagina lì, immerso nei ricordi e intento, forse, a scrivere questi ricordi sulla carta. Oh, quante volte cominciò a raccontare la propria vita ai posteri e sulle pagine interminabili cadde la mano stanca. Ed ecco, la mano è stanca. Non è più quel generale sicuro, forte, glorioso, che aveva dominato sull'Europa. Ma è un uomo ormai stanco, ormai solo, isolato. Ecco, anche questo è Napoleone, ci dice Manzoni. E qui Manzoni prosegue, no? Con questo contrasto. contrasto tra il Napoleone generale, imperatore, sicuro di sé, instancabile, sempre in azione, a questo uomo ormai anziano, stanco, che ormai è inerte, che ormai trascorre tutte le sue giornate nell'ozio e ripensa al suo passato. Oh, quante volte, nel silenzioso tramonto di un giorno passato nell'ozio, è rimasto lì, con gli occhi abbassati, con gli occhi bassi e le braccia incrociate al petto. Egli è stato lì, immobile, lui che era abituato a dare ordini ai suoi soldati, era abituato a pronunciare una parola e vedere accorrere a sé tutti i suoi subalterni. E pensò a rapido spostarsi degli accampamenti militari, alle trincee nemiche prese d'assalto, al fulminio a correre dei suoi plotoni, alla carica impetuosa della cavalleria, ai comandi secchi e precisi e alla pronta ubbidienza da parte dei soldati. Che cosa può aver provato Napoleone immerso in simili ricordi? Beh, sicuramente, dice Manzoni, sarà stato per lui estremamente straziante. Forse, dice, si è abbandonato alla disperazione. Chissà, forse come l'inominato nei Promessi Sposi avrà pensato anche il suicidio. E proprio in quel momento, di grande desolazione, di grande strazio, quel momento tragico, quelle ore tragiche della vita di Napoleone, ecco, che lì Dio non si è dimenticato di lui, ma è intervenuta potente la mano di Dio, lo ha risollevato e lo ha trasportato in un'aria, dice, più respilabile, un'aria più serena. E qui Manzoni instaura un altro paragone tra i campi di battaglia, la gloria che ha ricercato Napoleone nella sua vita, e invece gli altri campi e la gloria propostagli da Dio. E dunque la mano di Dio lo guidò per i sentieri fioriti della speranza verso la vita eterna, verso quel premio che è superiore a qualsiasi desiderio, è superiore anche alla corona dell'imperatore, in un luogo dove la gloria terrena non ha alcun senso, anzi non è altro che silenzio e tenebre. E qui Manzoni si commuove, si commuove di fronte alla forza della provvidenza divina che non abbandona nessun uomo, neppure Napoleone, anzi lo salva. O splendida fede immortale, o fede apportatrice di bene, abituata ai trionfi, dice, prendi nota anche di questo, rallegrati, perché mai un uomo più grande di Napoleone si è inchinato di fronte a te. Quante persone si inchinano di fronte a Dio? Ebbene, anche quest'uomo, anche Napoleone, chi lo avrebbe detto mai che Napoleone si sarebbe incinocchiato di fronte a Dio? Avrebbe compreso la grandezza dell'amore di Dio? Anche lui lo ha fatto. Questo è un trionfo per Dio. E conclude, ebbene, ora che Napoleone è stato salvato, fa sì che nessuno parli male di lui. Allontana dalle stanche spoglie di Napoleone ogni parola ingiudiosa. Dio che abbatte e conforta, che dà dolore e gioia, si posò accanto a lui sul suo letto di morte, abbandonato da tutti. Per comprendere meglio il contenuto di questa ode, dobbiamo considerare che il giudizio sulla vita di un uomo può essere di varia natura. C'è il giudizio che dà il mondo sugli uomini, ma c'è il giudizio che dà Dio. E non sempre questi due giudizi coincidono. Ci sono persone che il mondo esalta e considera VIP e persone invece che il mondo scarta, gli ultimi, i poveri. Attori, politici, cantanti e personaggi famosi, tante volte sono, diciamo così, per il mondo delle celebrità e quanto tali si parla di loro e diventano per molti dei modelli di vita. Agli occhi di Dio invece non c'è alcuna differenza tra questi personaggi famosi e Papa Francesco, è una signora anziana che vive sola nel suo appartamento, è un boss mafioso, oppure ciascuno di noi. Dice Manzoni, Dio ama ogni uomo e la grandezza di una persona non sta nella sua carriera, non sta nei soldi accumulati, nell'essere considerati membri di famiglie importanti, ma nell'amore nutrito per gli altri e nell'apertura al suo messaggio al Vangelo. In questa prospettiva, allora, le grandi imprese compiute da Napoleone sono nulla rispetto al momento della sua conversione, quando anche lui ha capito di essere amato da Dio. La lettura di Manzoni della storia ci offre una nuova prospettiva degli eventi. È la prospettiva della provvidenza, che non si è stancata di bussare al cuore di Napoleone e che proprio in un momento in cui Napoleone sembrava un perdente agli occhi del mondo, ha operato un grande miracolo, la sua conversione. Il giudizio storico su Napoleone, come generale e politico, è lasciato agli studiosi, no? Vi ricordate? Ai posteri l'ardua sentenza. La vera gloria dell'uomo Napoleone, però, non sta nell'avere steso il suo impero dalle Alpi alle Piramidi, dalla Spagna alla Germania, dall'uno all'altro mar, dal mar Mediterraneo al mare del nord, e neppure nell'aver provato la gloria, la reggia e gli onori. No. La vera gloria dell'uomo Napoleone si ebbe quando, ormai lì da solo, anziano, con le braccia al sen concerte, ha provato un profondo strazio ed è arrivato alla disperazione. Perché? Perché in quel momento la valida mano di Dio non lo ha abbandonato, anzi è venuta dal cielo per toccare il suo cuore. L'uomo Napoleone ha saputo afferrarla e finalmente ha potuto percorrere i sentieri della speranza. Questa è la vera gloria, non la gloria degli uomini, non la gloria delle corone, ma la gloria di Dio, che a terra e suscita, che affanna e consola, che, ci dice nei Promessi Sposi, non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne una di più certa e di più grande. La conversione e la salvezza di Napoleone è solo uno dei tanti capolavori operati dalla Providenza, che, d'altro canto, ci dice Manzoni, è Avezza ai Trionfi.